Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un progetto che reputo molto interessante che si chiama Smog. Questo progetto è interessante perché c'è un airdrop. Tutti sappiamo che negli ultimi mesi gli airdrop crypto hanno scaturito qualcosa di molto interessante perché tante persone hanno fatto milioni di dollari semplicemente partecipando a questi airdrop che consistono in svolgere semplici attività che permettono di ricevere token gratis. Quindi questo è il piccolo riassunto ed è importante capire che ci sono progetti validi e ci sono progetti non validi e in questo caso Smog potrebbe essere un progetto molto interessante per vari motivi sia perché potrebbe esserci dietro uno degli inventori di Sponge ma anche perché il progetto è sul Solana e ha subito una forte crescita nel breve termine. Quindi in questo video voglio parlarvi di questo progetto, di come ricevere l'airdrop, di come comportarsi e soprattutto anche darvi qualche notizia a riguardo che non guasta mai. Ora iniziamo subito però prima di iniziare è fondamentale lasciare un mi piace, basta un click e se non siete iscritti ragazzi iscrivetevi anche al canale per continuare a seguirmi. Soprattutto più engagement, più questo video riceve visualizzazioni e più aggiornamenti a riguardo porterò. Quindi è fondamentale davvero supportarmi. Ora iniziamo subito. Il progetto in questione si chiama Smog, come ho detto prima. È un progetto che prende il nome dal dragone di Smog dell'Hobbit e quindi vediamo che c'è un dragone qui e per questo diciamo questo è il nome. Però a noi interessa più la parte inerente al mondo cripto. E vediamo che possiamo acquistare il token tramite Ether, USDT oppure carta. Semplicemente basta collegare il wallet, vi consiglio di fare il collegamento del wallet. E in pochi click si acquista diciamo il token e il gioco è fatto. E ci sono due opportunità che possiamo sfruttare. La parte staking, se vogliamo acquistare il token e mettere in staking è molto semplice come al solito. Si può mettere il token in stake e c'è un tasso di ricompensa annua per adesso del 42% come ben si vede qui. Oppure ragazzi invece di acquistare il token possiamo semplicemente partecipare all'airdrop. Cos'è l'airdrop? Come ho detto prima c'è possibilità di ricevere il token gratis. Quindi in questo caso possiamo speculare su progetti cripto che potrebbero avere un potenziale per il lungo termine che potrebbero farci guadagnare molti soldi però in questo caso non stiamo rischiando i nostri soldi o almeno una piccolissima parte che è irrisoria. Infatti possiamo semplicemente partecipare su zilai.io, questo sito qui. Ci possiamo arrivare semplicemente andando sull'home page del progetto che ovviamente il link è qui in basso in descrizione quindi se voleste cliccare basta un click e vi connettete al progetto e così siete sicuri che il progetto è quello ufficiale, la pagina ufficiale perché possono esserci scam online purtroppo e un link anche affiliato ragazzi quindi se voleste supportarmi in questo modo anche mi supportate in questo modo e basta andare in alto a destra e cliccare su airdrop questa sezione qui e in automatico vi uscirà questa pagina. Qui come ben si vede vediamo che ci sono tutti i compitini da fare per ricevere diciamo il token gratis ad esempio possiamo seguire su x il progetto e se ricevano 10 xp poi vediamo possiamo seguire telegram e se ricevano 10 xp parliamo di xp ragazzi quindi di questi punti che poi sbloccherebbero il famosissimo airdrop. Ci sono alcuni compiti che ci danno più token, altri compiti che ci danno meno token se vuoi decidere cosa fare. C'è anche un daily quest che permette di fare cose daily ragazzi quindi questo potrebbe essere molto interessante. Ci sono persone che hanno ricevuto milioni di dollari in airdrop e hanno venduto ovviamente sono diventate milionari semplicemente completando questi piccoli compitini qui. Ovviamente questo non significa che tutti diventeremo milionari grazie a reairdrop però ricevere una piccola quantità di token gratis non è per niente sbagliato anzi se non si rischiano soldi perché non farlo. Vediamo anche che c'è possibilità di fare il trading del token smog ad esempio possiamo fare il trading di smog con bonk basta cliccare qui oppure acquistare smog sui DEX e riceviamo xp diciamo in cambio e tutti abbiamo diciamo conosciuto Jupiter come airdrop io vi parlavo di Jupiter principalmente per i milionari che sono diventati anche a 17 anni c'è un ragazzino che su Twitter mostra cosa ha fatto per diventare milionario tramite l'airdrop di Jupiter e semplicemente ragazzi farmava qui sopra faceva queste piccole cose, questi piccoli compitini svolti ogni giorno e connettendo poi il wallet diciamo alla piattaforma ha ricevuto i token con l'airdrop quindi questo è molto molto importante da capire. La piattaforma qui ci mostra un po' di cosa si tratta abbiamo una roadmap, abbiamo la tokenomics, cose un po' scoccianti però è importante capire anche che bisogna analizzare un progetto per bene prima di investirci questo articolo qui spiega un po' quello che è successo col token vediamo che la nuova moneta meme smog focalizzata sull'airdrop vede un lancio con listing su SOL e sale del 1400% nella prima ora hanno raggiunto anche quasi un milione di market cap nella prima ora ragazzi quindi tantissimo e ci sono tutti i dati qui che mostrano quello che è successo quindi ha avuto una forte crescita perché si è creata tantissima hype intorno grazie al fatto che Jupiter ha creato milionari con questo airdrop quindi nel mondo cripto diciamo le cose che vanno adesso al momento sono gli airdrop quindi prima si parlava di meme coins ora si parla di airdrop quindi ricevere cripto gratis e tanti progetti ovviamente sfruttano questa cosa per farsi conoscere quindi gli utenti compiendo queste azioni seguendo su Instagram, su Twitter, su Telegram fanno conoscere il progetto ed è un win to win sia per il progetto in sé per sé e anche per le persone, per gli utenti che sbloccano token gratis che possono vendere al mercato è una cosa incredibile qui ci viene anche fatto un riassunto per quanto riguarda la tokenomics abbiamo un 50% per il marketing, 35% per l'airdrop, 10% per liquidità sugli exchange centralizzati e un 5% per la liquidità sugli exchange decentralizzati quindi è davvero molto molto semplice il tutto questo qui è un articolo su CryptoPotato però trovate tantissimi articoli perché se ne parla davvero ovunque ragazzi del progetto e vi ricordo che qui in basso in descrizione c'è il link affiliato e se ci cliccate mi supportate perché ricevo piccole commissioni per quanto riguarda i token e poi una volta fatto il collegamento ragazzi qui semplicemente si può acquistare il tutto non è molto complicato, ne ho parlato spesso però se avete bisogno di un tutorial per diciamo su come utilizzare i DEX vi consiglio di cercare su YouTube perché sia in lingua italiana che in lingua inglese ci sono tutorial fatti molto molto bene in cui viene spiegato ovviamente come utilizzare diciamo al meglio questi DEX e come acquistare con vendere eccetera tra gli acquisti non vi consiglio la carta per le commissioni vi consiglio Ethereum e USDT ricordatevi che avete bisogno dei token se utilizzate ad esempio la blockchain di Ethereum con Metamask avete bisogno dei token di Ether per pagare le gas fees quindi non dimenticatevi anche queste piccole cose perché sono le domande che ricevo più spesso su Instagram eccetera e a proposito se avete questioni oppure dubbi fatemelo sapere nei commenti qui in basso oppure contattatemi tramite i miei social ufficiali che sono qui in basso in descrizione di questo video attenzione ai profili finti abbiamo anche qui una roadmap la prima fase ricerca e drop costruzione del sito web distribuzione dei token attivazione social eccetera fase 2 lancio inizio a drop oltre 10.000 prescelti dominio social opportunità di burn fase 3 lanci a drop ancora più a drop oltre 100.000 guerrieri scelti padronanza social diventa race hall una cosa del genere ovviamente ragazzi quindi non tutti riceveranno l'a drop come si è ben capito quindi più svolgete questa attività tramite Z-Lay più ci sono possibilità di sbloccare questi a drop sono piccole attività alcune sono gratis alcune sono a pagamento nel senso che bisogna utilizzare ad esempio i DEX per acquistare e vendere e pagare gas fees però se sono piccole cifre poi alla fine sono costi molto bassi se si pensa che si possono ricevere e si è fortunati anche tantissimi token che possono essere poi venduti al mercato e potreste prelevarli detto questo ragazzi ancora grazie mille a tutti per la visione di questo video noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura vi ricordo un mi piace un'iscrizione ciao a tutti ragazzi e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti